Ragazzi qui da Giovanticom con Damned Quindi Siamo qua col nostro Sto cercando un nome Ma non me ne viene in mente neanche uno Comunque col nostro apparecchio alieno qua Ecco chiamiamolo così Per trovare un po' di impronte Io non so dove andare a cercare Allora luce viola Eccola, 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 eccola qua Facciamo una foto, cosa facciamo? No, spariamo anche a quest'altra impronta Guarda qua Piene di porto Dammelo, dammelo Sì, lo so, qui non è in ufficio rosa È prima stata rapita da un demone Lo saprò io Che ho assistito la scena Dammi un posto a fare Da Ok Wow, no, odio quando fa così Cos'è accaduto? Perché mi sta facendo vedere? Ci sono dei terminali attivi nella sezione Libri rari Libri rari Andiamo nella sezione Libri rari, allora Dov'è la sezione Libri rari? Ah, è vero C'era una porta Oh mio dio Questa Perché così tanti occhi? Comunque Mi ricordo che c'era una porta E io sono davvero al buio Che Doveva essere aperta Per forza con un piede di porco Su dalle scale Ok, grazie per l'informazione Di qua Questa qua doveva essere aperta Con un piede di porco Guarda lì E i treni La banda bassofix Guarda lì Che si sparano fra loro, fratto Come è raga Wow Sme Ma perché mi ha sparato Appena mi ha visto quello lì Bastardo Dove? Dov'è? Dove è andato? Vabbè Ci penso dopo I tre Della Ave Maria Qua sono scappati Ah no Si può ancora chiamare Tarari Tarara Aspettando l'ascensore E qua Com'è? Buongiorno signore Com'è? Ma niente Tu ho andato a posto Lei Le va al piano Ma vado al secondo Ok però aspettate Prendiamolo fra un secondo Prima Voglio controllare bene Qua intorno Per vedere Se ci stiamo perdendo qualcosa Perché questa È la sezione Libri rare No aspettate È vero Il secondo piano Dalle scale Se significa Che dobbiamo salire Quindi vamos E saliamo di piano Prendiamoci un medikit Così per fare E Primo piano Perché questo era la B Era il basement Piano terra Quindi Primo piano C'è la sezione Libri Rari Speriamo che l'ascensore Non ci trolli Di nuovo E qua Ci dovrebbe essere Rosa Da qualche parte Ah si Me lo ricordo Sto piano Si 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 Mica è molto più buio Di come me lo ricordavo Cosa state facendo È stelte No Fanculo Smetti la Merda Fermi i fucile Fermi i fucile Preso No Merda Ma Stupidi immortali Ok Dammi il revolver No La 45 Ho fatto una strage In pochissimi secondi Ragazzi Smettila te Mi sento Una mitraglietta C'aveva questo Oh mio Tiro Cioè mi sento così Hitman Bellini ragazzi Davvero assurdo Ho fatto una strage Ok Adesso Libri rari Cerchiamo la sezione Dead Segui il mio indice Segui il mio indice Ma Vaffanculo Allora Libri rari Di qua No Però andiamoci comunque Di qua Wow Watterson Reading room Sicuramente qua No eh Sicuramente la parte sbagliata Questa però Un piede di porco Dai ma c'ho la mitraglietta Che palle Ok andiamo Prendiamo la Mitraglietta Sai com'è Ci abbiamo un mitra Ma per aprire una porta Ci serve per forza La minchia di Mitraglietta La La minchia di Piede di porco Io poi non sto A tornare indietro Per il mitra Eh ragazzi Perdo un casino di tempo E siamo già Quattro minuti Quindi Quindi Indi per cui Usa il piede di porco E non fare storie Rosa Qua com'è Hai sblocato il premio Bagno uccelli Che schifo Cos'è Perché E' terribile a dirsi Comunque Ci sono dei medichi Il premio Bagno uccelli Qua c'è qualcosa Forse Sta minchia Che c'è qualcosa Lì è tutto bloccato Lì le fine Ok niente Possiamo riprenderci Il mitra Ok La buona nuova E' quella lì Forse qua si può No Qui è da dove sono arrivato Che c'erano quei quattro Essere assettati di sangue Che stavano spolpando Un pene Lì per terra Wow Oddio Quando faccio Ste cose a random Per sbaglio Traietta Ora Libri e rari Fatevi sotto Dove cazzo Sono sti libri rari Vediamo qua dal terminal Se mi dice qualcosa No Computer Sfasciato Quell'uomo Non mi convince Qua Magari qua Piede di porco Tutto Tutto col piede di porco Si fa in sto gioco Dammi sto piede di porco Che palle Apri un po' E vatti a prendere il mitra Che cazzo Mitra 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 Eccolo qua Ora si che siamo carichi Via col mitra Io Io E il mio mitra Siamo pronti Per la polgia Wow No 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 Merda 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 Aia 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 Ok Aia 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 Sono andato nel panico Non sapevo come schivarli Perché quest'uomo Non sa saltare Purtroppo Wow Ma come fa a prendermi Dai Non mi si Non mi si vede neanche Dov'è Wow Smettila Sembra che palle Dai È impossibile Farlo così Oh Smettila te Quei stupidi che siete Un fucile a canne Minchia Ora si fa Tutto con i fucili Sto gioco Tutto con i mitra Quanto pare Quanti colpi ho? Ne ho ancora nove Forse mi conviene Stare ancora un po' Con le mitra Almeno Ammazzarne ancora uno Con il mitra E poi Cambiare Semmai Allora Lì si può scendere Però Mi sembra stupido Scendere di qua Perché si va È infatti Dalla parte Da cui siamo arrivati Quindi Io direi Anzi Di prenderci La pistola Perché Rispetto al mitra Magari È vero Spara di meno Ma Magari I singoli colpi Ci hanno un pochettino Più danno Questo qua Scusa Non è Sto fucile Non può raccogliere Non può unire i colpi Ah è zero Ok Zero colpi È zero colpi In effetti Cioè Due e zero colpi Fanno due colpi In effetti Questo qua Sette colpi Il mitra Ne ha nove Però col mitra Sono costretto Spare la raffica Quindi ok Strumento Vai Stiamo per trovare Un altro Cielo morto E vai Guarda te Che bello Cielo morto Di qua No Di qua Eccolo qua Vabbè Vi abbiamo raccolto Un altro Cadavere Terribile Qui no Un martello Questo qua sicuramente Mi servirà per spaccare qualcosa Tipo questo Assolutamente no Ah ma là c'è rosa Fra l'altro Rosa sto arrivando Aspetta Rosa Rosa Come la salvo Devo trovare un modo Per scavalcarla C'è una scala C'è sempre una scala In queste Librerie Barra Biblioteche Barra Sala studio Che non è usata Per studiare Eccola lì Minchia che genio Che sono Ok Saliamo Vai Usa la mazza Va bene Ah Perché L'hanno Lucchettata Ok Minchia che scatto Bravo Thomas C'è una potenza In quelle braccia Anche se Sembra che non le usi Sali ora vai E saliamo La scala In cerca Di rosa Andiamo Con la pala A Metterci In posa Un altro cadavere Che bello Rosa Sono arrivato A salvarti Eccomi qui Rosa Rosa Sono io Sto Fammi usare Il taser Contro sta troia Successivamente Quindi Scandine per lui Adesso Stis C'è un rito Non è vero Non glielo dire Ma io Scusi Con Scusi Un 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 Guardate Un morso Adesso Se Andiamo Qualunque Cos Scusi Sono contento In transfer Dato Accolta 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 Scusi Si Tanto E Scusi In qualunque il computer bingo dn freddo santo ma ci si trova che lasciarmi un piccolo esistica testo sirio che ho diciamo che ho capito rispettivamente ho capito dimmi dove in quattro di buon diritti dimmi dove trovarlo che vuoi capire chi è il nostro mondo il daccia ha abito lei per poter capire come quale se come sarà la sua vittima c'è un testo non si tratta non si tratta si si vuole per tutti si infatti visto quando la mia fece riserva si sa capito questo c'è abbastava una testa ragione non si è un'altra cosa accade la valutazione che è stato giocciato arricchia c'è parte di un'opera ad un po' di contatti arco per e quindi è bra... è bra... ciao 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 beh trovare la scuola troviamo... non credo che sarà scuola cioè in senso è sparito quindi dai andiamo lei ha la chiave per ogni porta a quanto pare ma ci hai i registri bla 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 ok vamos vai ro... armi alla mano qua eh apri e ti sparo Rosa vamos vamos alla playa oh 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 e Thomas è monopalla oh 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 e Rosa è un uomo oh 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 e Rosa c'è la pelosa oh 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 rosa ma quanto sei un uomo eh rosa sei terribile c'hai la barba e i baffi come un uomo main collection stacks rosa lo vuoi un fucile no lei va in giro con la sua borsa e basta le... non serve nient'altro comunque ragazzi stop qua il video ed andiamo di qua si ci vediamo nella prossima parte lasciate un mi piace un commento ciao ciao ciao